Buongiorno a tutti. Allora il giorno di oggi prevede, se non ricordo male, Campatina verso Urbino, poi torniamo, decidiamo a seconda dell'orario, facciamo Campegna, si sceglie dall'altra parte, si passa da Pesaro, quindi torniamo verso Urbino, poi Pesaro di nuovo panoramica, ci fermiamo le vincole, leggiamo il giornale e poi torniamo verso l'Alexander. Dovremmo essere per l'ora di pranzo di domani, dovremmo riuscire, se cortesemente avvisate, dormiamo fuori, sta cominciando a piovere, a me è meglio, mi piace.